chiedevo al cammello come si girava la fotocamera del telefono non c'erano altre domande che mi poteva fare con questo sfondo bellissimo, con questa giornata solare vogliamo augurare un buon Natale e felice anno nuovo auspicandoci che nell'anno venturo si possa riprendere a piano regime con le assunzioni auspicandoci sicuro tranquillo come ha modificato il covid anche noi modifichiamo le assunzioni ce lo spieghiamo vogliamo augurare buon Natale a tutti ovviamente precari e non precari perché ce ne chiesità di tutti questo l'abbiamo sempre detto e non lo nascondiamo ci sono ora quelli che non sono più precari e ci sono anche quelli che non sono più precari adesso hanno fatto le prove sono in procinto di essere chiamati questi come si chiamano perché non sono anche assunti perché ancora non hanno firmato il contratto né canne né pisci su ah bravo né canne né pisci bene e quindi questi ma ci sono quelli che sono entrati anche che già sono diventati pesci ah bravo quelli ci sono vero vero ci sono anche quelli va bene comunque e quegli altri che invece sono in come dire in coda alla ibridi ibridi quelli sono ibridi ma anche quelli saranno i primi ragazzi tutti saremo i primi tutti saremo i primi comunque vi confermo che se il covid dovesse finire e ci auspichiamo tutti che finisca subito subito e assunzioni riprenderanno anche quelle che sono state bloccate quest'anno cioè dovevano essere il doppio e il triplo quest'anno sono state ridotte a causa della pandemia buon natale e buon anno a tutti ciao buon anno ragazzi a tutti